Ad oggi siamo a 70 adesioni formali, io mi auguro che si arrivi a 100 sindaci presenti, che non significa che sono solo 100 i sindaci che sono contro lo sblocca Italia, significa un dibattito, un convegno, una manifestazione, si recano 100 sindaci, questa è una cosa importante e soprattutto i 100 sindaci si incrociano con i movimenti, con le associazioni, con i comitati, con i cittadini, con coloro che vogliono costruire un'altra Italia, non quella dei viadotti e delle autostrade che cadono o delle opere pubbliche che massacrano i territori e creano ruberie di Stato come la TAV in Val di Susa o inceneritori che servono alle cricchie, alle mafie, agli speculatori o trivellazioni che massacrano e mettono in pericolo i nostri territori o chi vuole invadere di cemento nuovamente le nostre terre o inquinare i nostri mari, quindi vogliamo costruire economia in modo diverso, quindi un PIL diverso, che è un PIL del benessere, della tutela e del rilancio dei nostri territori, di una ridistribuzione dei patrimoni, della vicinanza a chi non ha denari, vicinanza alle enti locali, alle persone, una maggiore umanità nel progetto politico, quindi credo che da Napoli, da Bagnoli possa esserci anche l'epicentro di un progetto politico insieme a tante altre persone, tanti sindaci e tante associazioni e tanti movimenti e comitati che in lotta nel Paese stanno cercando di difendere le nostre terre da provvedimenti normativi che sono profondamente pericolosi e nella nostra città lo sono ancora di più se pensiamo che una norma, un articolo addirittura viene dedicato proprio alla città di Napoli e all'articolo 33 su Bagnoli con il commissariamento. A me farebbe piacere che ci convocasse il Presidente del Consiglio, siamo pronti, siamo pronti a essere ascoltati, ad andare avanti, ad accelerare, a metterci in gioco, ad assumerci responsabilità, a non avere lentezze, c'è una maggioranza politica ampia in Consiglio Comunale e nella città, pronta, non deve più cincischiare sul commissario il Presidente del Consiglio. Se si vogliono ristabilire rapporti corretti tra istituzioni, il Presidente del Consiglio convoca immediatamente la città di Napoli attraverso i suoi rappresentanti eletti democraticamente dal popolo e il Presidente della Regione che rappresenta in modo democratico la Regione Campania, li convoca a Roma e si lavorasse insieme non stop, senza stare bloccati da otto mesi con un commissariamento che fuorilegge e che espropria la democrazia. Napoli non sarà mai espropriata né da Renzi né da nessun altro.